Salve e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo la seconda e ultima parte della piccola serie di video sulla mia, chiamiamola, console analogica di Pong 1D. E finiremo di vedere come ho fatto a creare questo, chiamiamolo, videogioco, console di transistor operazionali e un'altra manciata di componenti. Ma vediamo tutto con calma, ovviamente dopo la sigla. Nella prima parte di questa miniserie di due episodi, che vi consiglio di andare a recuperare se non l'avete già fatto, abbiamo visto nel dettaglio come si gioca e come funziona questa piccola, chiamiamola, console. E abbiamo cominciato a dare un'occhiata allo schema elettrico. Schema che tutto sommato, anche se non sembrerebbe, è abbastanza semplice, soprattutto se lo dividiamo a macro blocchi, a seconda della loro funzione. So che per molti potrebbe essere noioso analizzare in un video degli schemi elettrici. Ma secondo me è una delle cose più belle da fare. Io sinceramente sono sempre curioso di capire come funzionano gli schemi che non conosco. Capendo come funziona il circuito, non solo si fa esperienza ed è possibile riconoscere magari ad occhio certe strutture e capire cosa fanno, ma anche possono venire alla mente tante altre soluzioni o modi di riutilizzare parti del circuito in altre diverse applicazioni. Cioè, diciamo che sono di ispirazione. Ma basta perdere tempo e iniziamo col video. Nella scorsa puntata avevamo già cominciato a vedere il blocco, chiamiamolo, di display. Cioè quella parte di schema che permette di controllare i led che a tutti gli effetti saranno il nostro display, diciamo, con cui potremo giocare. E avevamo visto nel dettaglio come funzionano tutti questi comparatori, di cui la maggior parte è a finestra. Comparatori che alla fine non faranno altro che illuminare i led in sequenza, una alla volta man mano che la tensione da comparare aumenterà o diminuirà. Ma se vi state chiedendo Ma cosa serve fare illuminare i led in questo modo? Beh, sono sicuro che vedendo la parte principale del circuito, diciamo quella che è l'effettivo gioco, capirete subito il motivo. Ma siamo quindi a vedere questa parte dello schema. Per chi segue i video del mio canale scommetto che il cuore del circuito gli risulterà molto familiare. Infatti non è altro che un multivibratore avvistabile. Che se non sapete come funziona, o che cos'è, andatevi a recuperare il video dedicato, che non mi va di ripetere come funziona in ogni video che faccio. Comunque l'uscita di questo avvistabile è connessa a tutti gli effetti a questo condensatore con in serie un resistore e un potenziometro. In pratica, ad ogni commutazione del multivibratore andremo a caricare e scaricare il condensatore con una certa velocità, dettata proprio dalla resistenza serie e dalla capacità del condensatore. Ora so che starete pensando... Tutto qui? E come fa a funzionare il gioco? Beh, come potete notare, la tensione ai capi del condensatore è a tutti gli effetti il segnale che andremo a comparare nel blocco, chiamiamolo, di display, visto nella puntata precedente. Quindi i led visualizzeranno la tensione ai capi del condensatore. E questa tensione si trasformerà in led che si illumineranno una alla volta in sequenza, cambiando direzione a seconda della carica o scarica del condensatore. In pratica, durante la carica del condensatore si accenderanno in sequenza partendo dal basso verso l'alto, se guardiamo lo schema, e durante la scarica dall'alto verso il basso. E questo accadrà finché ci sarà un cambio di stato del bistabile. Che poi nella realtà nel PCB sono stati ruotati a 90 gradi questi led rispetto allo schema, e quindi si muoveranno da destra verso sinistra o sinistra verso destra. Comunque, in parole povere, avremo creato l'effetto della palla che viene lanciata da un giocatore all'altro, utilizzando semplice bistabile e la carica o scarica di un condensatore. Che figata no? E non è finita qua. Infatti, modificando la resistenza serie del condensatore, potremo a tutti gli effetti modificare la velocità di carica e scarica del condensatore, e quindi modificare anche la velocità della nostra palla virtuale, modificando stavolta la difficoltà della partita. Tornando a noi, immagino che avrete capito che per, diciamo, ribattere la pallina, sarà sufficiente far communtare il bistabile. Ma vediamo come effettivamente ho fatto a farlo communtare. Se pensate che sono questi i due pulsanti con cui si gioca, vi sbagliate. Infatti questi due pulsanti saranno a tutti gli effetti quelli dei reset, o chiamiamolo servizio della palla virtuale, se vogliamo vederle in un'ottica del gioco. Infatti, inizialmente, pensavo anche io di giocare solo in questi due pulsanti. Ma ho notato subito un grosso problema. Cioè che si poteva imbrogliare con facilità. Per esempio, la palla con questo pulsante poteva essere ribattuta in qualsiasi momento, e non solo con l'ultimo led acceso. Per non parlare che tenendo sempre premuto il pulsante, la palla sarà ribattuta automaticamente, cosa inaccettabile dal mio punto di vista. Così ho lasciato questi due pulsanti solo come reset, o meglio per fare iniziare la partita, e ho creato questa parte di circuito. In pratica, la sezione antiimbroglio. Infatti, se questi due pulsanti saranno reset per fare iniziare la partita, i veri pulsanti, diciamo quelli racchetta, con cui giocare, saranno questi due. So che il circuito potrebbe sembrare complesso, ma alla fine tutta questa parte di circuito potete immaginarla come un interruttore, o meglio un relè, connesso in questi due nodi, e che scatterà solo con una certa logica. Infatti, il contatto che si apre e si chiude, in questo caso sarà simulato proprio da questo BJT, che si attiverà attraverso il pulsante, però solo in certe condizioni. Infatti, grazie a questo secondo BJT, creeremo a tutti gli effetti un enable, che permetterà o meno di attivare il primo BJT. Per prima cosa volevo infatti che il pulsante racchetta fosse attivo solo nel momento in cui l'ultimo led di gioco, quello arancione diciamo, fosse acceso. Per questo, avendo due op-amp diciamo in avanzo, avendo usato tre integrati da quattro operazionali, ho creato un ulteriore comparatore di tensione, che terrà sempre attivo questo BJT, e quindi spento il secondo, se non nel momento in cui la tensione sarà più alta, o più bassa nel caso del secondo giocatore, della tensione di riferimento. Tensione di riferimento ovviamente presa dal partitore di tensione del blocco del display, nel punto in cui si sarà la soglia che permetterà di accendere il led arancione. In questo modo il BJT, diciamo utilizzato come interruttore, sarà sempre disattivato, a meno che la tensione non sia nel range del primo o ultimo, dipende dal giocatore, led arancione. Ma questo non bastava, infatti volevo che una volta perso e quindi acceso il led rosso, che sarà comandato da questo comparatore, volevo che il gioco volesse essere risettato con un secondo pulsante prima di riuscire ad iniziare una nuova partita, in modo da non riuscire ad imbrogliare sfruttando magari la distrazione dell'avversario e ribattere quando ormai in realtà la partita era già finita e aveva già fatto punto. Così, alla base di questo BJT, ho connesso anche l'uscita del comparatore con l'internet rosso, in modo che il pulsante racchetta venga disattivato nel momento in cui non si è riusciti a ribattere la palla nel breve tempo che il led arancione era acceso. Insomma, questo pulsante funzionerà solo nel momento esatto in cui sarà acceso l'ultimo led, non prima e non dopo. Ma questo circuito non farà solo questo, infatti se vedete il pulsante non è collegato direttamente alla base del BJT, ma c'è anche un condensatore e diodo di mezzo. Questo diciamo un escamotage che ho utilizzato per evitare che tenendo sempre premuto il pulsante, il giocatore possa ribattere la palla in automatico. Infatti il condensatore, per come è fatto di natura, diciamo che non lascia passare la corrente continua. In pratica, molto semplicemente, in uscita del condensatore troveremo solo un picco negativo e un picco positivo a seconda della carico-scarica del condensatore, che avverrà più grazie a questo pulsante. Lasciando lo scarico o completamente carico il condensatore, quindi il pulsante diciamo sempre premuto o sempre rilasciato, non avremo alcuna tensione alla base del BJT, ma solo degli impulsi ogni volta che premeremo il pulsante. Infatti grazie al diodo lasceremo passare solo gli impulsi positivi, che potranno in questo modo attivare il proprio BJT. Ma finalmente arriviamo all'ultima parte del circuito, la parte audio. Infatti montata la prima versione su breadboard, ho subito notato che mancava qualcosa, cioè l'audio, o meglio un fastidiosissimo fischio tipo dei giochi di quel tempo. Così mi sono detto, bisogna che ci sia anche una scheda audio integrata. Progettare questa parte vi dico, non è stato facile, perché il circuito era già abbastanza pieno di componenti e connessioni e non volevo aggiungere altri BJT o pump o troppi componenti. Così ci ho pensato parecchio come semplificare le cose. E finalmente una sera mentre l'ho letto ho avuto l'illuminazione. Sì, al posto di dormire mi metto a pensare a queste stupidaggini. Per creare la scheda audio avrei potuto sfruttare il principio della charge pump, che per chi non sa di che cosa sto parlando è meglio se andate a vedere il video dedicato. Comunque per l'audio ho utilizzato questo cicalino attivo, che se state chiedendo cosa vuol dire attivo, significa solo che questo cicalino suona fornendogli una semplice alimentazione, e non un'onda quadra per farlo oscillare. Diciamo che auto-oscilla. Comunque tornando a noi, se notate il negativo del buzzer che ho utilizzato è connesso a V-alimentazione, mentre positivo ha questo nodo che a tutti gli effetti sarà anche lui connesso sempre a V-alimentazione attraverso questo diodo. E so che può sembrare un errore e che a prima vista non potrà mai suonare, ma vi assicuro che non sono impazzito. Infatti connessi al nodo V-al sound, a tutti gli effetti ci sono questi due condensatori, dalle diverse capacità. Primo condensatore con la capacità più grossa è connesso attraverso questa resistenza ground, e attraverso questi diodi anche all'uscita degli op-amp che comandano i led rossi, cioè diciamo quelli fine partita. Mentre questo condensatore più piccolo è connesso sempre con un resistore verso il nodo di riferimento, e con questi diodi ha entrambi i pulsanti chiamiamoli racchetta. Ma vediamo perché, e prendiamo il condensatore più piccolo che tanto il principio di funzionamento è uguale anche per quell'altro. Se ci pensate, normalmente se non è premuto il pulsante racchetta, questo condensatore si caricherà fino a raggiungere V-al. Nel momento però che un pulsante sarà premuto, in questo piatto del condensatore non troveremo più circa 0V, ma quasi V-alimentazione. In pratica sarà come mettere due generatori in serie, visto che nel condensatore è carico e questo nodo è quasi a V-alimentazione. In questo modo il nodo V-al sound raggiungerà una tensione più alta rispetto a quella di V-alimentazione, che grazie diodi potrà andare proprio al buzzer, e quindi farlo suonare. Poi rilasciando il pulsante il condensatore tornerà alla situazione iniziale, e quindi tornerà a caricarsi e a ripetere tutto in un ciclo infinito ogni volta che è premuto o no il pulsante. In pratica il cicalino suonerà solamente quando il pulsante verrà premuto, o uno dei due led rossi si accenderà, essendo il funzionamento anche di questo secondo condensatore praticamente uguale. E se vi state chiedendo Ma perché allora hai usato due condensatori diversi? Beh, per fare due suoni diversi. Infatti il primo condensatore di fine partita, avendo una capacità più grossa, accumulerà più carica facendo suonare per più tempo il nostro cicalino. Mentre premendo i pulsanti avremo un condensatore con una capacità più piccola, che farà un suono molto più breve. Che figata no? Come ultima cosa, il circuito, avendolo progettato per funzionare a 5V, l'ho predisposto anche di una porta USB-C, in modo da poterlo alimentare con un qualsiasi alimentatore o powerbank USB. E finalmente siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio sulla schema della mia console analogica. Ovviamente ci sono tanti piccoli dettagli sullo schema che non vi ho svelato, come protezione di disturbo, l'aggiunta di componenti per sopperire ad alcune caratteristiche reali dei vari Mopamp o BGT, ma sono tutte cose veramente da nerd che vi risparmio. Tornando a noi, una volta montato tutto su Breadboard, l'ho pure fatto provare in anteprima ad alcune persone, come per esempio mio fratello mio piccolo, revisore di ogni mio video del canale, e mi sono convinto, sia dai feedback ricevuti che dalle mie impressioni, che valeva la pena di trasformarle in un PCB, in modo da avere sempre una scheda pronta per giocarci quando volevo. Dopotutto mantenere queste due Breadboard strappiene di fili e componenti mi sa che non aveva proprio senso. E visto che c'ero nel PCB, non solo ho previsto dei footprint per montare componenti differenti, ma anche la possibilità di utilizzare a distanza il gioco con due controller appositamente da me progettati. Controller che magari mi torneranno utili anche per il progetto più grande della console con giochi intercambiabili che volevo realizzare. Ma basta spoiler! Spero che questo video vi sia piaciuto e che in qualche modo è stato utile. Scrivetemi nei commenti se avete qualche dubbio, richiesto o domanda. Altrimenti fatemi anche solo sapere come avete trovato il video e se vi interessa vedere la versione più avanzata di questo progetto, sempre analogica, che sto realizzando con un display più grande e giochi intercambiabili. Come al solito, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Tutte cose per voi senza costo, ma per me molto importanti. Noi ci vediamo presto con altri nuovi video. Ciao! Ehi, non ne ho premuto. Ma nel momento sbagliato, devi premere quando... Ma devo premerlo due volte? No, ma in realtà puoi premerlo anche mille volte, ma... Devi premere nel momento in cui il giallo si è acceso, da un attimo. Vuoi renderlo più difficile? No. Prova. Ma... Non lo becchi nel momento giusto. Ma se si accende io premo. Eh no, ecco, vedi? Devi beccare nel momento in cui si è appena acceso. Carino, no? Sì. E io sono master tennis. Poi puoi imbrogliare con questo. Tieni premuto quello. Vedi? Poi stacca pure il cavo da là. Oh no, sta morendo. È normale. Sì, è normale. Non lo stracchi, ma così. Non ho fatto. Esatto, non l'ho fatto.